buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bene da sera siamo qua io per ringraziarvi tutti come sempre e per darvi gli auguri di una di un felice anno nuovo e oggi dovrà anche dire così per ieri non si non si va a nessuna parte comunque va bene io mi auguro che comunque insomma lo possiate passare in compagnia comunque lì sono dei cari e di amici più cari insomma e niente detto questo quest'anno meno male è finito che lo stiamo lasciando alle spalle e insomma con questo coronavirus abbiamo avuto stato veramente un anno un anno particolare e è veramente trebolato bene io ho sentito anche delle dichiarazioni corrate e non entro in merito della squadra eccetera però mi auguro quanto lui che si inizi presto i lavori per quanto riguarda l'ammodernamento della del nostro stato la garibaldi stadio su me non come tale e corrate ha detto che insomma la prima la prima fase sarà partirà dalla curva nord e quindi demolizione a curva nord e via via poi beh io ragazzi mi auguro che inizino presto i lavori che a pisa si possa finalmente avere uno stadio degno di questo nome e niente degno della della nostra della nostra società della nostra squadra insomma e della nostra città che dire più io questo è veramente un video di augurio veramente che possa iniziare quest'anno nel miglior modo sia possibile insomma poi anche una considerazione che finalmente sono arriveranno i vaccini quindi a breve insomma saremo bacino a tutti io poi penso che a quel punto che ma si si riprenda la routine normale di tutti i giorni insomma tutti come era ecco io questo è diciamo così l'augurio più forte più sentito da parte mia e penso da a parte di tutti bene ragazzi io per questo video la finire è un augurio veramente a tutti a tutti gli iscritti e a tutti quelli che che vengono e guardano i miei video io non posso che dirvi grazie ragazzi se vi è piaciuto questo video pollice su mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto buon anno buon anno veramente a tutti di cuore ragazzi il pisa resta e tutto il resto passa auguri di un buon anno grazie a tutti grazie a tutti